Mercoledì 16 settembre, San Cornelio e Cipriano. È il 260esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 106 al termine. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.19. La luna si leva alle 5.11 e tramonta alle 19.16. Indicta regatta cum naviglis abentibus remus vigenti. È questa una nota in calce ad un codice anonimo del tempo che ricorda i festeggiamenti di contorno al famoso torneo tra cavalieri friulani e veneziani in piazza San Marco durato tre giorni, avvenuto durante il dogado di Lorenzo Tiepolo. È la prima notizia su una regata svoltasi a Venezia. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso. Sui monti nel pomeriggio a tratti nuvoloso con alcune piogge. Temperature in calo sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti.